buongiorno a tutti oggi parleremo della madre di adriano cecioni l'opera di cecioni da sempre è stata caratterizzata da un mostrare la verità nuda vera e propria anche se questa doveva essere comunque sia pensata ma anche rivelatrice nel 1878 adriano cecioni realizza il prototipo in gesso del gruppo scultorio della madre che presenterà due anni dopo ovvero nel 1880 l'esposizione nazionale di torino qui chiarini la descrive come una donna di umili condizioni ovvero una donna di campagna che allatta i propri figli e fa le faccende domestiche ma già nell'esposizione di torino il gruppo scultorio non è visto di buon occhio dalla critica perché considera per l'appunto la madre come una scultura estremamente volgare teatrale nella posa e soprattutto troppo vero somigliante alla realtà quella realtà che invece doveva essere secondo la critica ancora infarcito ancora caratterizzata dall'uso di quel classicismo che aveva fatto grande anche la storia della scultura italiana cecioni si arrabbia a tal punto che decide di scrivere un libello che poi pubblicherà sotto lo pseudonimo di ippolito castiglioni all'interno del quale vi è proprio una vera condanna verso la critica andando proprio a sottolineare come in realtà di arte se ne dovrebbe occupare o perlomeno dovrebbero scrivere di arte su esclusivamente chi l'arte la produce quindi gli artisti cecioni poi all'interno di questo libello andrà anche a sottolineare quali sono state le intenzioni che hanno mosso la rappresentazione di un tale soggetto in questa maniera in particolar modo viene sottolineato come lo scultore non abbia voluto rappresentare una madre ma la maternità vera e propria senza nessun filtro da parte di nessuna modella e sarà proprio per questo motivo che lui ad un certo momento sottolineerà come per lui siano maggiormente affascinanti le madonne realizzate da beato angelico che cerca proprio di andare a rappresentare le caratteristiche stesse della vergine maria piuttosto che le madonne di raffaello che invece non sono altro secondo lui che delle modelle messe in posa che guardano lo spettatore in maniera anche maliziosa perché sanno di essere belle vi è però un grande stimatore del gruppo di cecioni che è gesù e carducci il quale scriverà una vera e propria poesia in onore di questo gruppo scultore pubblicate dentro di barbare e soprattutto sarà lui che intercederà presso il ministero dell'istruzione pubblica affinché possa commissionare ad adriano cecioni la realizzazione in marmo di questo di questo soggetto il gruppo quindi viene realizzato attraverso l'assenza potremmo definire quasi completa di minuti particolari e anche senza quella modellazione pittorica che in realtà aveva contraddistinto la scultura ottocentesca è interessante inoltre notare come nella concezione di adriano cecioni la natura non sia qualcosa da copiare ma qualcosa da cui prendere spunto e poi da dover rielaborare io vi ringrazio e alla prossima puntata ciao 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 ciao